Mi chiamo Valentina Iacono, vengo da Roma. Ho dovuto rinunciare alla normalità di una vita normale che poteva anche includere fare una passeggiata con le mie figlie all'aria aperta se era una giornata particolarmente ventosa perché soltanto l'aria fredda mi procurava dei dolori e automaticamente andava a infiammare nei giorni successivi. Era una tragedia. Avevo avuto dei problemi di masticazione e in entrambi i lati sopra e sotto i denti erano infiammati avevo una grandissima infezione sui canini superiori. Ora mi sento benissimo, la mia vita è cambiata tantissimo e è tutta un'altra cosa. Innanzitutto finalmente riuscirò a mangiare anche una bistecca qualcosa di un po' più consistente rispetto a zuppe o a cibi ultramacinati, frullati e sminuzzati in piccoli pezzi e mi sentirò proprio più libera di vivere la quotidiana di davvero una persona normale. Io consiglierei assolutamente la clinica hanno fatto il meglio che potevano fare sia a livello funzionale che estetico per la mia situazione che era a dir poco complicata. Con i macchinari di ultima generazione che sono presenti in clinica c'è la possibilità, come per esempio nel mio caso, che poi il piano di cura viene rivalutato perché tutto è al fine di riuscire a trovare la soluzione migliore per qualsiasi caso. Il sorriso alla fine penso che sia il primo biglietto da visita. Noi parliamo, non soltanto a sorridere, ma anche a parlare, sentirsi a proprio agio con le persone perché quando tu parli automaticamente le persone guardano la bocca che si muove, guardano il labiale e di conseguenza sentirsi a proprio agio con il proprio sorriso si ha un'altra solarità, si è più espansivi, si ha più voglia anche di comunicare sia nel lavoro che nella vita personale.